Ok rieccoci, prima di tutto dobbiamo ovviamente togliere questi mercenari perché il prossimo turno costeranno di più quindi non vogliamo tenerli, procediamoli, potenziamo il nostro generale, qui non so come funziona questa cosa, cioè non mi ricordo più quali bonus dà, zero direi di non toccare, probabilmente astuzia, secondo fiato sì. E a proposito diciamo del bonus della fazione, volevo dire due cose perché nei commenti della prima parte c'è stata un po' una discussione perché il problema è che nei commenti uno non riesce tanto a spiegarsi bene, soprattutto non si può vedere l'atteggiamento in cui uno dice le cose, per cui ho preferito dire due parole adesso e spiegare un attimo come la penso. Perché il punto è questo, a me piacciono molto i bonus di questa fazione, anche se forse, visto che comunque non mi ricordo quali siano i bonus di altre fazioni, cioè ho passato troppo tempo e non mi ricordo assolutamente più, quindi non so dire con certezza se sono effettivamente consistenti come bonus o meno. Il punto però è che la cosa non mi interessa perché il 50% di costo in meno dell'arruolamento dei mercenari e il 50% in più del costo di mantenimento dei mercenari forse non sarà uno dei bonus più forti del gioco, probabilmente a livello soggettivo ci saranno bonus più consistenti, molto probabile. Il punto però è che, considerato la situazione di partenza dei ghetti, che partono con una provincia, neanche capitale, e c'è il problema diciamo che sono fondamentalmente destinati dal mio punto di vista ad affrontare chi vincerà praticamente le varie guerre che ci sono in Grecia, perché o questi qua arrivano su o noi dovremmo andare giù, quindi la preoccupazione dovrebbe essere dal mio punto di vista espandersi il più possibile in modo da potersi difendere o eventualmente poterla conquistare noi, quindi è necessario essere aggressivi all'inizio della campagna, poi magari sto vedendo tutto, non lo so. Il 50% in meno del costo di lavoramento dei mercenari è estremamente buono dal mio punto di vista. Oltretutto, a differenza di tanti altri bonus, questo qua modifica il modo in cui gioca una determinata fazione. Nel caso del ponto io sinceramente non mi ricordo quali fossero i bonus e probabilmente l'ho saputo per i primi tre giorni, poi me ne sono fregato altamente perché ho fatto 70 parti senza saperlo. Perché comunque, magari sono anche più importanti, però non si fanno sentire così tanto sulla campagna. Mentre il bonus dei gating mi piace proprio perché ti spinge a giocare in un modo diverso. Sotto questo punto di vista credo che sia migliore di qualunque altro bonus all'interno di questo gioco, indipendentemente dal fatto che sia più o meno consistente dal punto di vista della matematica, diciamo. A questo punto direi che possiamo passare il turno. A questo punto di vista è un'aggressione e cuglianarti. Mi odiano. Sono i bastanti, sono quelli che abbiamo conquistato prima, probabilmente sì. Sinceramente no. Perché potrei anche espandermi in quella direzione per il momento. È successo qualcos'altro che non ho visto, il grado è aumentato. Ah, il campione, bene. Ehm... Stato a guarda cittadina, non me ne frega più di tanto. Se c'è qualcosa che aumenta... Facciamo questo. Il villaggio è il cuore del popolo, cos'è? Ah sì, ok, abbiamo finito la costruzione del villaggio barbarico qui, quindi aumenta la felicità generale. Questa cosa diminuisce di due il cibo, abbiamo il cibo sì, ce l'avremo comunque. Direi di fare quello. A questo punto, direi di... Sembri per il discorso che secondo me bisogna essere abbastanza aggressivo all'inizio del gioco. Conviene potenziare un attimo l'aspetto militare, almeno all'inizio. Questo come probabilmente di sbloccare delle stalle, quindi avrai dei cavalieri, in prima o poi. Cosa... Beh, forse queste qua però non sbloccano i cavalieri, credo. L'albero, diciamo così, degli edifici di Rom non l'ho mai... Non l'ho mai capito più di tanto, vediamo un attimo comunque. Tecnologie, ma sblocca qualcosa? Abilita gli edifici? Sì, sblocca della cavalleria. Spero che sia cavalleria. Beh, sì. Potrebbe essere interessante come cosa. Mentre qui cosa abbiamo? Bonus di carica più di unità di terra. Questo qua potrebbe essere buono perché... Sì, dobbiamo fare questo qua. Perché ci serve per i nostri guerrieri con la falce. Con tutta probabilità, adesso vediamo qua, ma... Sì. Questo qua, ad esempio, sarebbe stato un bonus che avrei preso normalmente, ma non lo prendo perché con il fatto di attaccare con i mercenari e di poter attaccare soltanto nel turno in cui li reclutate è altamente improbabile che io faccia degli assedi, quindi questo aspetto probabilmente non lo toccherò. Se fosse una fattafazione probabilmente l'avrei toccato. Qui ci odiano ancora. Cioè ci odiano, non è che ci odiano, ma non ci vogliono neanche bene. Allora, Olbia... Beh, è un territorio sul mare, quindi è probabilmente buona cosa prenderselo, in teoria. Mentre questo territorio non è solitamente sul mare, non è neanche una capitale. Quindi direi che conviene provare un attimo a guardare. Dovremmo avere due spie, però. Cioè sarebbe bello avere due spie. Non credo che possa farlo, infatti. Perché non avendo... Sì, forse ripensandoci conveniva accettare il fatto di un'aggressione per il momento. Perché comunque non dovevo pensare, diciamo, al nord, no? Mentre pensavo invece deve espandermi un attimo a destra. Però non è un grosso problema. Qui hanno già dei problemi, probabilmente. Cos'è? No, ok, queste qua cosa sono? Perché è... C'è l'auguramento qui? A parodose. Che unità hanno questi qua? Questo è un problema. Non abbiamo assolutamente niente che possa affrontare quello. Perché non abbiamo... Beh, abbiamo dei ceri cavallo, però insomma, non è proprio il massimo. Quindi no, direi che per questo momento... Probabilmente cercheremo un attimo di reclutare qualcosa. Allora, in questa città dovremmo difenderci, probabilmente. Però anche lì no, non dobbiamo difenderci. Perché per arrivare da noi dovrebbero sconfiggere prima gli odresi. Quindi abbiamo il tempo di proteggerci, diciamo. Per cui questa nostra provincia di partenza è difesa. Per cui non mi interessa più di tanto reclutare lì. Quanto invece... Fare la cosa corretta qua. Cioè, reclutare qua, ovviamente. Questi lanceri... Sono decenti. Sicuramente... Sono abbastanza importanti perché non ho nulla che possa tenere una... Una fila, diciamo, per il momento. Quindi dovrò reclutarne un po'. Anche se sono abbastanza pessimi, devo dire. Io di finire il tuono. Poi c'è stato anche un commento per quanto riguarda l'uso dei guerrieri con falce. Lì ho risposto, però credo che sia abbastanza interessante anche da ripetere qui. Il commento era di utilizzarli come fossero cavalleria. Che è sta roba? I druidi? Vabbè, cos'è? Andraste. Buono. Potrei... Beh, è una situazione dove quel bonus lì ti spingerebbe tra virgolette ad attaccare perché le unità che ho al momento sono unità molto economiche e quindi il morale non è altissimo. Anche se il 5% di poco è comunque poco, diciamo, però vabbè. Tornando al discorso di come utilizzare... Intanto questo qua comunque lo manderò sopra a sto punto. Tornando al discorso di come utilizzare quelle unità di fanteria, il concetto di utilizzarle come se fossero cavalleria può essere giusto in parte. Nel senso che... Cos'è sta roba? Riserva. Tra il cibo. Vederei di fare questo. Non vedo perché dovrei fare qualcos'altro. Perché comunque... In parte possono fare il lavoro della cavalleria. Cioè se si tiene in conto l'attaccare alle spalle, l'attaccare dai fianchi. Il bonus di carica dovrebbe essere abbastanza decente. 46 contro 12 ad esempio. Quindi direi proprio di sì. Il problema qual è? È che la cavalleria ha un grado, diciamo, di utilità maggiore rispetto a questi. Questi qua fanno danni bassi. Mentre la cavalleria comunque può essere usata anche a livello difensivo per proteggersi da altre cavallerie. Cosa che quelle falci assolutamente non possono fare. Vediamo se c'è qualche altro potenziamento in questo momento. Non ce n'è. Abbiamo 1700 comunque perché questi lanceri costano poco. Credo che dovremo concentrarci abbastanza. Mercenari qua ce ne sono. Lì mandiamo in un'altra provincia quindi avremo dei mercenari. Prima però voglio portarci su. Pensando se andare subito all'attacco qua o aspettare qualche turno. Prima vorrei portare su questo, devo essere sincero. Comunque sì, l'aspetto difensivo, quelle unità con falangi non ce l'hanno assolutamente perché sono degli uomini nudi senza scudo. Quindi, insomma, frecce li massacrano. Sassi, i farombolieri forse non così tanto però diciamo che non... Insomma, sarebbe comunque meglio cercare di evitarlo. L'utilizzo diciamo che, secondo me, è migliore è cercare di sfruttare alberi o coperture comunque per farli arrivare dietro o alle spalle e poi caricare, ovviamente. A questo punto, direi... che possiamo muoverci. Possiamo riportare ancora qualcosa? Probabilmente sì. Qui mi pare che ci potessi avere 20 unità. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Quindi avrei due mercenari. Il nostro esercito comunque è fatto abbastanza bene. Quindi potrei anche accontentarmi di due mercenari. Portare due eserciti a questo punto. Non so fino a che punto potrebbe essere buono, però... Direi che conviene perché... Saluto discorso. Se fosse un'altra fazione probabilmente non l'avrei fatto, ma... Con questa, potendo sfruttare i mercenari, direi di farlo. Comunque qua cos'hanno? Beh, hanno unità abbastanza scarse. Hanno unità scarse, diciamo. Qui mi pare che non abbiano unità di... Beh, oddio. Hanno 9 unità comunque. Sì, mi conviene farlo anche perché poi... Un esercito lo riporterò qua per eventualmente difendermi da... Dall'est. Se dovessero attaccarmi. Quindi facciamo... Ehm... Come è che si faceva qua? Creano forze. Vediamo qua il generale. Desistenza all'occupazione. Fado difesa. Termine cos'è? Termine con se c'è una imboscata. Vediamo questo. Crea esercito. Facciamo una Cavalieri Nobili, che dovrebbe essere buono. Cioè, almeno abbiamo una Cavalleria, più che altro. E... Ehm... Questo qua lo mandiamo su, subito. Che tanto comunque si finirà, diciamo, di ripararsi, tra virgolette, alla fine del prossimo turno. C'è la fine di questo turno, quindi il prossimo turno sarà pronto. Qui abbiamo anche dei... Guerrieri con lancia. Perché abbiamo finito di costruire qualcosa? Questo qua probabilmente, sì. Quindi direi di cominciare a... Ehm... Beh, abbiamo almeno 5 perché ovviamente la maggior parte del nostro esercito è uscito. Non dovevo fare quello. Dovevo reclutare degli uomini. Direi di reclutare questi guerrieri con lancia. Perché comunque sono migliori di quelli che ho, no? E direi di finire il turno. Oltretutto è anche inverno, quindi c'è il malus e l'ordine pubblico. Buono. Questo è il viraggio barbarico. Ehm... Adesso l'ordine pubblico è tornato a posto. Qui vabbè, avevo detto che avrei probabilmente utilizzato in qualche modo anche questo esercito per attaccare, ma a questo punto non conviene perché è tirandolo fuori per dare ancora l'ordine pubblico. Quindi utilizzerò soltanto quello. La cosa più furba probabilmente sarebbe stata portarsi dietro meno uomini in modo da poterne reclutare di più con i mercenari. Colpo capo di tutta l'unità. Assolutamente no. Questo, cioè, al limite è questo, ma non... A questo punto vorrei fare però un po' di cavalleria. Lecce di cavallo credo che possano essere abbastanza utili. A questo punto direi di attaccare. C'è una cosa che però... Beh, prima di tutto no, devo arrivare qua. Abbiamo dato di chiaro guerra. Buono. Due lanceri correttati ai mercenari. Che mi costerebbero circa 880 denari, se non avessi il bonus, invece me ne costano soltanto la metà. Assumiamo. E adesso dichiareremo guerra. Comunque una cosa che volevo anche dire è che cambierò un attimo una... No, qua devo... Una cosa che facevo in genere, cioè... Quello che succedeva in genere era che dopo tipo 18 minuti come adesso, partiva una battaglia e la parte passava a 30 minuti. Quello che cercherò di fare, cioè che cercherò di fare, che voglio fare... Qui siamo considerati in svantaggio, eh. Chi se ne frega. Quello quindi che voglio fare è eventualmente tagliare anche all'interno delle battaglie. Cioè, salvo, penso che si possa fare. E la continui in un'altra parte. Cosa che generalmente non facevo. In questo punto direi di attaccare questo. No, sono in difesa però. Quindi hanno delle, insomma, delle robe difensive. Beh, a sto punto non inizio neanche a fare la battaglia. Perché comunque ci sarebbe giusto il tempo per far caricare il gioco. Comunque no, probabilmente a questo punto credo che attaccherò direttamente la città. Sì, perché non può aiutarlo adesso che è in difesa. Quindi abbiamo quattro unità in meno. Quindi sarebbero 9 più 5, 10, 11. Quindi sono 21. No, 9 più 11 sono 20, che ve lo sto dicendo. Quindi comunque siamo bilanciati. In questo senso le nostre unità sono migliori alcune. Quindi in questo senso non c'è da preoccuparsi. Questo invece Questo invece è più preoccupante Dobbiamo Cercare Di reclutare dei cavolo di arcieri. No, sto sbagliando sempre. Perché gli arcieri? Perché gli arcieri Counter hanno tra virgolette Gli arcieri e cavallo In parte Eventualmente dovrò portare indietro questo esercito. Vedrò come Come affrontare questa situazione nella prossima parte. Comunque Questo qua Lo lasciamo qua Perché se attacco Probabilmente Li farò sabotare qualcosa Direi che per questa parte è tutto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi E al prossimo video Ciao Ciao Ciao